Mi interessa far gol, mi interessa che comunque la squadra porti a casa il risultato e se il mio compagno ha più probabilità di me di far gol, gliela passo e gliela passerei ancora. L'azione non l'ho vista, non so se fosse fuori gioco o meno, però come ho detto è una scelta che rifarei. Per quanto riguarda la prima domanda, sì, è una vittoria che ci voleva per lavorare in maniera più serena, che ci dà positività, che ci dà voglia di vincere ancora, perché vogliamo vincere ancora. Niente, ci voleva e siamo contenti che sia arrivata. Allora, penso che il secondo tempo abbiamo giocato meglio di squadra, però secondo me il primo tempo abbiamo creato tre o quattro occasioni comunque importanti, pur non giocando come il secondo tempo. Quindi, sì, il mister tra primo e secondo tempo ci ha stimolato e il secondo tempo è venuto fuori. Sicuramente è una prestazione migliore, ma non penso che quella del primo tempo sia una cattiva prestazione, diciamo. In campo non hai la percezione, non pensi tanto alla condizione fisica, c'è l'adrenalina della partita, quindi pensi più alla partita, alla prestazione, quindi non so rispondere bene alla domanda. Per quanto riguarda gli allenamenti, sì, sono un po' più duri. Per fare bene bisogna lavorare duro, quindi ovviamente facciamo con piacere il nostro lavoro. Continuiamo a lavorare così e sono convinto che arriveranno delle soddisfazioni. Lavoriamo per quello, vogliamo vincere anche in casa dopo una sconfitta in Parigi, quindi faremo di tutto per vincere in casa davanti ai nostri diffusi.